quella mosca la pioggia l'importante è che si sia calmata però purtroppo per domani è prevista un'ulteriore perturbazione quindi speriamo bene quando è giusto la peggio è volete sempre in giù guarda l'uomo nel mio viso c'è stato tutto questo sorprenditio io ero in città le cose che ho controllate sono caduti gli scaffali, si è spostata alla volta con tutti gli scatoloni medicinari eccetera mia figlia mi è venuta arrivare sopra ma così ti è rimasta bloccata nel negozio? no ero giù nel deposito che ero andata a truttare nel mentre si è spostata alla sala cinesca e sono caduta il negozio invece i danni già sono venutissimi poi da valutare i miei che stanno scappare a terra e il fango arrivava già alle mie ginocchia grazie! 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 All'improvviso ci siamo trovati sommersi dal fanno, però un attimo ci sono voluto, veramente un attimo. Io abito sopra, praticamente sono potuta scendere da poco, perché ero... era vincuta in casa. Danni attualmente? Danni attualmente, fortunatamente sembra soltanto sporcizia. Speriamo che si recuperi presto, perché poi dobbiamo anche lavorare. Oltre ai danni, c'è da lavorare. Mamma mia, lo stai scavando, lo stai scavando. Mamma mia, 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 lo stai scavando. Grazie.